Allora, intervengo per solicitare delle interrogazioni. La prima è la numero 501-104 del 1 ottobre 2013. Praticamente sono passati quasi due anni e non ho ancora ricevuto una risposta. La questione è relativa alla trasversale del Medio Savuto, ribattizzata dai cittadini La strada che non c'è. È praticamente un'arteria aviaria che dovrebbe collegare 30 comuni dell'entroterra calabrese ai capologhi di provincia di Catanzaro e di Cosenza. I lavori di questa fondamentale opera aviaria sono iniziati negli anni Ottanta e ad oggi non sono mai stati conclusi questi lavori, ma risultano essere finanziati, o meglio. I fondi per il completamente sono stati distanziati, ma non sono mai stati erogati. Io sono stato ai cantieri di questa strada che non c'è un paio di mesi fa e ho assistito a uno spettacolo drammatico, per non dire desolante, un ecomostro lungo chilometri. La strada che non c'è è solo l'ennesimo esempio emblematico dell'incapacità della politica di far fronte ai problemi dei cittadini. La stessa politica che costruisce con soldi pubblici strade che crollano o strade che, come questa, non vengono mai completate. E critica magari questa politica chi le strade le fa, come ad esempio è successo in poco più di 30 giorni, rinunciando a buona parte dei propri stipendi, come appunto è successo in Sicilia, grazie al Movimento 5 Stelle. Invece il secondo atto di sindicato ispettivo che voglio sollecitare è il numero 506207 relativo all'annoso problema della mala depurazione in Calabria. In pratica questo problema rischia di compromettere ulteriormente l'economia della nostra regione e ha portato una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea che a partire dal prossimo anno potrà costarci la bellezza di 38 milioni di euro all'anno e porterebbe la Calabria ad essere nuovamente commissariata per la gestione della depurazione. Sistema di commissariamento che ci tengo a dire... Deve concludere la mia parentela. Sì, Presidente, abbiamo avuto già per dieci anni, dal 98 al 2008 siamo già stati commissariati, il problema non è mai stato risolto. Per questo ho chiesto al Governo, attraverso questa interrogazione, delle proposte per risolvere il problema. Ad esempio, svingolando i comuni... Però lo dobbiamo risolvere rapidamente perché il tempo è concluso. Sì, 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 i comuni dal quattro di stabilità. Presidente, mi auguro che al ritorno delle vacanze il Governo si degni di dare una risposta perché i cittadini calabresi e i turisti che stanno nelle nostre bisame coste stanno assistendo a uno scempio indecoroso. La ringrazio. Grazie a lei per la parentela. Se nessun altro chiede di intervenire, possiamo andare a leggere l'ordine del giorno della seduta di martedì 8 settembre 2015, ore 16, svolgimento di interpellanze e interrogazioni. La seduta è tolta. Grazie a tutti.